Hello children! Oggi vedremo come usare il verbo can. Il verbo can è un verbo modale che indica la abilità o capacità nel fare qualche cosa, si usa per fare una richiesta o si usa per dare il permesso a qualcuno di fare qualcosa. La sua forma negativa è can't oppure nella forma non contratta can not. Attenti alla pronuncia, a volte vi capiterà di sentire dire can't con una sorta di e e questa è una pronuncia più americana, se invece vogliamo dare una pronuncia più inglese è più esatto dire can't con una sorta di a un po più aperta. Come si forma la frase con il verbo can? Come sempre si comincia con il pronome I, you, she, he, it oppure we, you, they più can più un altro verbo qualsiasi al quale però bisogna togliere il tu. Questo tu noi andiamo a ricordare lo usiamo quando usiamo i verbi all'infinito per dire to swim, nuotare, to dance, ballare, to eat, mangiare e così via. Quando vogliamo unire un verbo qualsiasi in una frase dove si usa can, questo tu va tolto, ricordiamocelo. Allora, qui vi faccio vedere tre esempi. I can swim, I can run, I can dance. Io nuoto, so nuotare, io so correre, io so ballare. Vedete che abbiamo tolto il tu. Un'altra cosa importante, quando si usa can deve sparire anche la s che viene messa alla terza persona singolare quando noi decliniamo i verbi al tempo presente, nel simple present. Andiamo a ripassarlo un pochino. Vediamo che vi ho declinato il verbo run, correre. I run, you run, she runs, we run, you run, they run. Ebbene, questa s alla terza persona singolare quando si usa il can va tolta. Vediamo questi tre esempi dove io ho messo i tre pronomi della terza persona singolare. She can run, he can dance, it can climb. Vedete che in tutti i tre casi la s è sparita. Lei sa correre, lui sa ballare, lui, esso inteso come animale, sa arrampicarsi. Anche la s alla terza persona sparisce quando usiamo can. Cioè can è proprio un verbo facile, non si può sbagliare perché questa s non si mette mai, rimane invariato. Vedete? In tutte le sei persone che noi adesso andiamo a vedere non c'è mai la s alla terza persona né per can né per il verbo seguente. I can run, you can run, she, he, it can run. Vedete le s non ci sono. We can run, you can run, they can run. Nella forma negativa io ho già usato la forma contratta ma per chi avesse difficoltà può benissimo usare can, not che è la stessa cosa. I can't run, you can't run, she, he, it can't run, we can't run, you can't run, they can't run. Vediamo alcuni esempi. quando can si usa nel suo significato di abilità. Io sono capace, sono abile a far qualcosa. Allora teniamo il verbo correre. I can't run very fast. Io so correre molto veloce. Oppure usiamo can quando vogliamo dare il permesso a qualcuno di fare qualcosa. You can use my pen. Tu puoi usare la mia penna. E poi vediamo invece come usare can per fare una richiesta. E quindi qui bisogna fare la domanda. Se vi ricordate come avevamo detto sia col verbo essere che col verbo avere, quando si fa una domanda, la prima cosa da mettere è il verbo e in seconda battuta il pronome. Can I have an ice cream mam? Posso avere mamma un gelato? Se la mamma ci darà una risposta affermativa in una short answer dirà yes you can. Vedete la domanda vi ricordate comincia con can, comincia con can. Se la risposta della mamma sarà negativa ci dirà no you can't. No tu non puoi. Un altro modo che noi già conosciamo e che usiamo già in classe per fare una richiesta è quando noi vogliamo andare in bagno e già diciamo can I go to the toilet please? Se la maestra ci darà una short answer affermativa ci dirà yes you can. Se ci risponderà in modo negativo ci dirà no you can't. Allora bambini spero che questa lezione sia stata abbastanza chiara. Vi consiglio di riguardarla qualora non vi ricordiate qualche cosa magari prima di fare qualche esercizio specifico. Ciao!